I've been fucking holes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar Fuckin' with me, call up on no Uzi and show up, man, and that shot toss When my homies... Ok guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio di Dragon Ball FighterZ Allora, in questa parte andremo ad iniziare l'arco finale, arco android numero 21, iniziamolo subito Quanta per ora, non? Quanta per ora, non? Quanta per ora, non? La un'occasione под ilberge Un'occasione che cosa del borde Quanta per iorsi, non? Quanta per iorsi... Quanta per iorsi ciot ilico Un'occasione che sta vincontare l'occasione... Tu... 16. 18. È l'ora di tempo, ma... ...dia... ...dia che tu... ...dia che era stato un'acqua di CELL? Non è vero, ma non è che tu... ...dia che tu... ...dia che... ...dia che... ...dia... Cosa? Cosa? ... 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 Grazie a tutti 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 Ok possiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un attimo Grazie a tutti 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 Ogni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti